Insieme in meno di una stagione a Fasano hanno festeggiato 13 reti tra campionato e coppa condite da un assist vincente. Ora Augusto Diaz e Giuseppe Laterza potrebbero riabbracciarsi a Taranto dove i rosso-blu cercano un sostituto di Dennis Stracqualursi passato al Fasano e potrebbero averlo trovato in un altro argentino che ha nel passato il bianco-blu. Alla pari dell'attuale allenatore Ionico, il matrimonio tra le parti sembra ormai cosa fatta dopo l'addio ufficiale tra il centravanti classe 92 e gli spagnoli dell'Inense. Intanto la terza ai punti sono 18 anche se pesa la non omologazione del 2-1 sulla Versa sarebbe in vetta al gruppo H condiviso con Sorrento e Casarano merito del successo pre-natalizio sul campo del Nardò. La classifica noi non vogliamo guardarla ma non sono frasi fatte, dobbiamo sempre ottenere il massimo risultato, questo lo sappiamo. Per noi sicuramente motivo di orgoglio per il lavoro fatto fino adesso, prima della sosta. Dopo gli infortuni a Corvino e al Fagheme il Taranto ha puntellato l'attacco con Abaglian ma l'arrivo di un'altra pedina appare praticamente scontato. Diaz ha tutte le carte in regola per fare la voce grossa nel reparto, conosce l'allenatore e il calcio italiano affrontato non solo con il Fasano ma anche con Cuneo, Palmese e Reggio Mediterranea. Se dovesse arrivare lo farà da protagonista in una rosa che con il blitz di Nardò ha cancellato gli amari pareggi last minute contro Casarano e Gravino. Abbiamo sicuramente accusato quella che è stata la difficoltà di quei due pareggi agli ultimi secondi però abbiamo dimostrato di aver accusato ma anche di aver lavorato sotto quel punto di vista. Non è facile perché poi ti viene l'ansia di sbagliare qualcosa, i ragazzi sono stati lucidissimi. Segni del destino, alla ripartenza il Taranto che confida intanto nei recuperi di Rizzo, Acquadro e Diabì ospiterà proprio il Fasano. Nella calza dell'Epifania potrebbe esserci Diaz pronto a sognare il gol dell'ex.